Che cosa ci sarà qui? Dai Villa, che l'hai già aperta! Ma l'ho aperta Enrico, puttana, guarda che rosa seria! C'è anche la... No, c'è anche la polacchiana! Sandisk! Ci saranno anche la Red Bull! Siamo subito a registrare la storia del vostro volo! Fai dire, fai dire, fai dire! Terza Red Bull Fluff Tag, Shot on GoPro HD! Andiamo! Red Bull! Non la vedo la Red Bull, non la fai vedere! Red Bull Energy Drink! Ottimo, ottimo, ottimo! Ho provato a prendere la vodka nel frigo! No, non si credo! Guarda che figata! E per noi il regalo direttamente da... Allora me la rivoglio! Nooo! Mi fanno a rivoglierla! C'è il foglietto che ho scritto, quella è nostra! Finirà sul fondale, casualmente! Sulla mia testa, legata qui! O su eBay! Ah, quale ci serve per la cartella, lo dico io! La fiera di elettronica, 30 euro! Questa ve la lascio a voi! E io! Puoi, puoi far vedere? Qui c'è una schedina da 16 gigabyte! Già sono quella! 16 giga dai! Puttana! Una ventina di euro sono! Sono sboroni eh! Adesso basta che c'è la batteria dentro eh! E se che non so stufetti le G3! Dai, stacca quel pochino! Un quadre! Dio boh, da buon! Allora, questo bisogna... bisogna cos'è? Questa roba? Questa roba? Ah, dì, se fra quattro giorni ti lo devi inviare! Per Dio, cosa vuoi fare? Aspetta! Complimenti! Il vostro progetto è stato giudicato un autentico polavoro dalla follia umana! Adesso impediamo l'ora di vedere liberarsi nel cielo di Milano! In questo a scatola nera c...